Si era vendicato innescando il rogo, l'uomo di mezza età, residente nella provincia pesarese, individuato dai carabinieri dopo un anno e mezzo di indagini. Era la notte del 20 maggio del 2019 quando un incendio era divampato nella rimessa di automezzi nella zona artigianale di Coglie al Metauro. Coinvolti diversi veicoli del trasporto scolastico municipale. Lo scenario che si era presentato agli inquirenti e ai soccorritori aveva lasciato più di un dubbio sulle cause che lo avevano innescato. I militari intervenuti avevano il sospetto che l'origine fosse di natura dolosa e che conseguenze ben più gravi erano state evitate solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. L'incendio infatti si era prorogato in tutto il garage e verso il tetto della struttura. Le indagini da subito in salita sia perché le fiamme avevano distrutto eventuali tracce di inneschie del comburente utilizzato, sia per l'assenza di segni di effrazione per introdursi all'interno, erano state avviate dai carabinieri della stazione di Coglie al Metauro e poi condotte dai colleghi del nucleo investigativo di Pesaro Urbino e dalla sezione di polizia giudiziaria presso la procura della Repubblica. Il delitto preso in considerazione era quello di incendio aggravato. Dopo lunghi mesi di lavoro la persona ritenuta responsabile è stata individuata. Si tratta di un ex dipendente della cooperativa di Foggia avente appalto i mezzi di trasporto. L'uomo, ancora prima dell'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini emesso dall'autorità giudiziaria, ha avanzato la richiesta di patteggiamento. In base alla ricostruzione dei fatti, l'uomo, spinto da motivi di rancore personali, aveva maturato l'intenzione di vendicarsi, innescando il rogo che ha colpito un servizio primario per famiglie e minori. Il suo obiettivo sarebbe stato quello di creare un disservizio durato diverse settimane, oltre ad un allarme sociale. L'attività delle forze dell'ordine ha permesso così di escludere anche scenari criminosi ben più gravi e allarmanti, inizialmente ipotizzati per le modalità con le quali è stato commesso il delitto.